Ben trovati a tutti voi. Naturalmente abbiamo trovato Davide Piocchi ancora insieme per fare la nostra consueta chiacchierata settimanale. Ciao Davide. Ciao, grazie. Un saluto a tutti quelli che ci seguono. Io credo che tu sia d'accordo. Io volevo partire in modo un po' diverso oggi e non abbiamo preparato nulla per dare ancora più l'effetto proprio dell'immediatezza rispetto a quelle che sono le notizie che ci portiamo appresso. Inizio così. Sicuramente questi giorni si parlerà molto, lo si sta già facendo, di scuola. Ora, io non ti sto chiedendo se tu sei pronto con un nuovo zainetto o una nuova agenda, come gli studenti si apprestano a fare. Vorrei però parlare con te di scuola per capire a che punto siamo con la ripartenza del paese dopo il periodo di lockdown e di coronavirus, perché di fatto credo che questo sarà il primo vero banco di prova, dopo quello ovviamente della riapertura delle aziende, delle imprese, degli uffici, che però di fatto non era stato proprio totalmente chiuso perché qualcuno aveva continuato a lavorare. Ecco, volevo partire da qui per cercare di, così, sviscerare tutte le questioni rispetto alla situazione economica dell'Italia. Beh, allora intanto Manuela, io vorrei dirti questo. Anzitutto la scuola ha assunto una tale importanza da essere oramai una mononotizia. Cioè, in questi giorni nei media si parla praticamente solo di andamento dei contagi e riapertura delle scuole. Direi che non c'è soluzione di continuità da questo punto di vista. Ma è tanto vero questo, soprattutto se pensi quanto sia passata in sordina, diciamo, il diciannovesimo anno dalle Torri Gemelle. Cioè, io ho sentito pochissimo parlare di questo evento, come se potesse in qualche modo distrarci là da dove invece dovremmo rimanere focalizzati secondo i media. Cioè, questo è uno degli eventi più importanti perché in realtà a scuola, pochi se ne rendono conto, non si va più da inizio marzo. Quindi non ci si va da sei mesi e ci si torna in un contesto talmente diverso che gli studenti dovranno abituarsi a ciò. Ho letto in questi giorni che potrebbe salire addirittura di 0,4, diciamo, l'indice R con T, che attualmente è poco sopra 1. Quindi si prevede che la scuola comporterà un innalzamento dei contagi. E siccome però, diciamo così, ho conosciuto molte aziende che in realtà stanno più o meno cominciando a riportare i loro dipendenti, soprattutto quelli dei servizi, mi sto riferendo, indietro negli uffici. E stanno più o meno cominciando come se anche lì ci fosse l'apertura dell'anno scolastico. Cioè stanno mettendo un punto a capo con ora che si riparte. Ho la sensazione che tra ritorno negli uffici, che da qui in poi sarà sempre più intenso, e apertura delle scuole, l'andamento dei contagi segnerà un passo, diciamo, molto significativo. Poi, effettivamente stiamo vedendo che, diciamo, pur non essendo io esperto del settore, però che ha un numero di contagi molto elevati, corrisponde a un numero in crescita, ma non ancora elevato, di persone purtroppo ricoverate nelle terapie intensive. E quindi il virus è probabilmente meno aggressivo, diciamo. E allora stiamo a vedere cosa succede, perché qui in qualche modo o si ritorna a un'economia che viaggia in pianta stabile, oppure i problemi diventano tantissimi. Quindi, insomma, sei d'accordo con me nel dire che la riapertura delle scuole è il primo vero banco di prova, dove la parola banco, peraltro, ricorre anche per altri motivi. Ma, insomma, perché, appunto, con il lockdown non avevamo più rivisto gli studenti tornare, no? Sui banchi di scuola. Assolutamente. Ed è un banco di prova perché, ripeto, non è solo la scuola, che è sulla bocca di tutti, ma è anche, molto più in sordina, pian piano il ritorno delle persone negli uffici. Alcune aziende riaprono al 100%, proprio in concomitanza con la scuola, altre parzialmente, altre anche solo per qualcuno o qualche volta alla settimana. Ma, pian piano, si tenderà a tornare. E le imprese puntano su questo proprio per il motivo che ho detto. D'altronde non è casuale. Il PMI, cioè, diciamo, i direttori di acquisto che, in qualche modo, sulla base del loro sentiment ci dicono come andrà, è stato il più alto di tutti in agosto. Proprio in attesa che settembre fosse una nuova ripartenza. Ma, insomma, sul fronte scuola, per quello, la mia seconda domanda, la prima domanda era, insomma, la ripresa del paese. Ci siamo fatti trovare pronti, secondo te, nell'organizzazione. Attenzione, non sto parlando del tema sanitario, perché poi l'ho preciso, perché quello, giustamente, deve essere, insomma, tema degli esperti. Insomma, a livello proprio di riapertura per guardare al futuro dell'Italia. Beh, oggi siamo, l'Italia è spaccata in due da questo punto di vista. Chi supporta il governo, ovviamente, fa notare che il lavoro da fare era in mane, certo, ha detto il Ministro, qualcosa che non è perfetto. Questo c'è, però non si poteva fare di più. Ovviamente, chi sta all'opposizione tende a criticare fortemente, ma questo è un gioco delle parti, no? E quindi, quello che si può dire è che sicuramente, e questo è un dato di fatto che condividiamo tutti, lo stato di vetustà, in generale, delle scuole italiane era abbastanza noto. A chiunque di noi le abbia frequentate, anche solo come genitore, era assolutamente visibile, almeno in gran parte. E noi possiamo quindi facilmente capire che tutti quegli edifici, che non erano aggiornati ed erano la stragrande maggioranza, anche solo per adeguarsi alle norme Covid, hanno dovuto fare uno sforzo terrificante, tremendo. E sicuramente non hanno ancora finito, ci saranno molte altre cose da fare, ci vorrà tenere. Allora, analizzando i temi della settimana, ovviamente mi viene subito in mente la riunione della Fed di mercoledì, però prima di parlare della riunione della Fed di mercoledì, però torniamo alla settimana scorsa, ovviamente parliamo di BCE. Ti posso chiedere che voto dai a Christine Lagarde? Ma, diciamo, è stato l'ennesimo non-event, se posso dire, da questo punto di vista, nel senso che quello che ci si poteva aspettare che facesse o che dicesse, lei lo ha fatto, e adesso siamo lì in attesa. Guarda, la misura, più di tutte, che uno può avere sull'incisività o la mancanza di incisività che può aver avuto Christine Lagarde, la vediamo dall'andamento dell'euro-dollaro. E se lasciamo, diciamo da parte un attimo, quella volatilità nel durante, cioè durante lo speech, durante la conferenza stampa, quando lei spiegava le cose, alla fine siamo più o meno lì dove eravamo prima, e quindi vuol dire che è stato un non-event, appunto. E invece della Fed, appunto, cosa ti aspetti? Beh, la Fed deve dire che tipo di cose eventualmente intende mettere in gioco ulteriormente. Certo, dopo quello che Powell ha detto recentemente, cioè spostare il target dell'inflazione dal valore del 2% a media del 2%, significa concedere all'inflazione la possibilità di salire oltre questa soglia importantissima, però tanto si conterà la media e quindi si guarderà un valore nel tempo. Questo vuol dire una Fed più accomodante per un tempo più lungo, anzi, accomodante per un tempo più lungo. E quindi bisognerà che Powell magari dia qualche dettaglio in più di quello che ha fatto a Jackson Hole e che ci dica che cosa vuole fare se ci sono delle novità da questo punto di vista, perché i mercati, come abbiamo visto, di riflesso a tutte queste decisioni si muovono e parecchio. E certo, tra un po' andremo un po' più tecnicamente sui mercati. Prima ti chiedo, visto che l'hai già citato poco fa, l'euro-dollaro. È ancora e rimarrà ancora l'indicatore più attenzionato di questi giorni, delle settimane? Ovviamente questa settimana credo di sì proprio per l'evento della Fed. Beh, abbiamo visto fin tanto che è andato in onda il movimento forte, quello brusco, quello che da maggio lo ha portato ad apprezzarsi di circa il 10%, partendo da 1,08% e finendo praticamente anche un poco sopra un e 20%. Ora sta cercando di trovare un equilibrio e di assestarsi e quindi le borse hanno più tempo di pensare alle loro cose. Ma abbiamo visto come se il trend è forte, quando l'euro sale, le borse europee fanno più fatica, soprattutto il DAX tedesco, perché lì ci sono tante aziende che con un euro troppo forte faticheranno ad esportare. Viceversa, quando l'euro scende, le borse europee si comportano meglio. Ora è più stabile e quindi i mercati probabilmente sono più tranquilli. Però devo dire che se la valuta europea dovesse arrivare oltre l'1,20%, io vedo facile un target a 1,25% nemmeno in tempi troppo lunghi. Ok Davide. Allora, altri temi. Facciamo così, prima di passare agli altri due temi market mover del periodo, ti chiedo dei mercati e partiamo da quello italiano, direi, visto che stavamo parlando dell'Europa, quindi di conseguenza vediamo un po' in Italia che cosa sta succedendo. La settimana scorsa abbiamo rilevato come settembre fosse iniziato con una situazione dei mercati che sembrava andare più di pari passo con la situazione economica. È così? Sta continuando in questo modo? Ma sì, diciamo, intanto l'indice. Oramai è in chiarissimo trading range molto stretto. La base è intorno ai 19.200 punti, in realtà anche con estensione a 19.000. La resistenza, la prima, quella vera, importante, è intorno ai 20.400, 20.500 punti. Ora, quel che succede però è che siccome 20.000 non è un livello banale, anche dal punto di vista emotivo per gli investitori, succede un po' questo, che finché si naviga sotto i 20.000 punti, gli investitori prevalentemente guardano in basso, cioè cercano di pensare oddio, siamo vicini al supporto, ecco per capirla. Sopra 20.000 invece subentra più l'ottimismo e allora si guarda a quanto manca la resistenza. Ma il trading range è molto poco ampio, è molto sottile. Di fatto questo è l'indice e l'indice riflette poi i temi dei singoli settori. Allora cosa sta succedendo? Beh, qualcosa si è mosso in questo periodo, si è mossa un po' la Fiat questa settimana perché secondo Manley siamo un po' più vicini forse alla fusione con Peugeot, però soprattutto due sono stati settori che hanno influenzato l'andamento dell'istino che poi alla fine è stato piuttosto stabile, anche se le singole sedute sono andate un po' su un po' giù. Il primo è un po' un ritorno di fiamma sui bancari, tante cose scaldano i bancari, dall'aumento di capitale ormai prossimo su Popolare Emilia, alla possibilità che vediamo come va a finire la situazione legata a un'eventuale acquisizione di borsa italiana. Poi abbiamo anche chissà il mercato che pensa che in qualche modo magari dopo la grande fusione intesa Ubi ce ne possa essere qualcun'altra e quindi attenzione a Unicredito come predatore e attenzione magari alla Popolare Milano come potenziale preda o chissà qualche altra banca più piccola, perché tutte si stanno un po' muovendo. A tutto questo un po' di ambiente frizzantino sul mercato delle banche fa da contraltare invece il comparto dell'energia, specie quella dell'energia petrolifera, perché noi cosa abbiamo visto questa settimana? Il petrolio che dopo tutte le attività fatte per creare un effetto rarità che tenesse il prezzo in alto, lo abbiamo visto scendere. La mancanza di ordini costanti, la mancanza di una domanda costante ha fatto sì che il prezzo abbia un po' ceduto e siamo ritornati a vedere quell'area 36 che di lì a poco, 35, 34, in tutta quell'area lì c'è una serie di supporti importanti e esattamente così come noi ci eravamo accorti che i titoli del settore da chi raffina come Saras a chi estrae come Saipem, a chi vive di indotto del settore come Tenaris o a chi distribuisce, quindi ha anche qualcosa in più come Eni, li abbiamo visti tutti deboli, perché il petrolio che sale non fa a loro vantaggio perché sale proprio a discapito dell'attività di chi è nella filiera, ma quando scende danneggia tutti e quindi noi abbiamo visto Saras fare nuovi minimi, Saipem fare nuovi minimi, Eni tornare su minimi importanti precedenti e Tenaris anche, quindi è un settore in forte difficoltà ma anche questo ha un peso specifico significativo nel nostro mercato, quindi un po' i benefici delle banche, un po' la situazione critica dell'energia petrolifera ed ecco che il quadro è di un listino che poi alla fine gira, che ti rigira, torna sempre a valere intorno ai 19.700, 19.800, 20.000, poi torna sotto e questo fa. Esatto, mi ha anticipato la domanda, stavo proprio chiedendo altri comparti al di là di quello bancario che hai citato per prima. Allora passiamo ai mercati americani, fermo restando che siamo in attesa, Davide, di capire, di vedere se Trump tira fuori qualcosa dal cilindro in battuta finale della campagna elettorale, ma insomma ai mercati americani che adesso guarderanno sempre di più alle presidenziali. Allora, qual è lo scenario? Beh, intanto lo scenario è un po' questo, l'S&P e il Nasdaq non sono proprio la stessa cosa, intendo dire. L'S&P è un po' una miscellanea più completa, cioè diciamo che quelle cinque aziende che fanno il bello e il cattivo tempo globalmente sull'S&P influiscono solo, e di poco, del 25%, mentre sul Nasdaq valgono metà. Questo significa che la loro appetibilità, che è continuata, imperterrita, sino a circa dieci giorni fa, aveva portato il listino Nasdaq ad avere una performance addirittura incredibile. Allora, il trend rialzista del Nasdaq in auge sino a pochissime sedute fa era un trend rialzista molto ben determinabile e visibile. Non era un trend sano, perché? Perché è avvenuto a discapito del fatto che dietro queste cinque società che ne rappresentano per capitalizzazione la maggioranza, c'è comunque tanto altro che è in difficoltà, no? E quindi l'economia poi, diciamo, va in una strada diversa. Quindi chi compra Momentum, chi compra il Carpe Diem, cogli l'attimo, ha fatto bene ad acquistare il Nasdaq. Chi compra valore, oggi si trova in difficoltà, perché i multipli non sono sostenibili, secondo me, su questi livelli. Quindi bisognerebbe capire la borsa se è fatta più degli uni o degli altri, ok? E soprattutto quando smetterà di essere così inondata di liquidità, come è avvenuto recentemente. Evidentemente sullo Standard & Poor's valgono considerazioni simili, anche se il tutto è un po' meno, come dire, accentuato come fenomeno. Ma di nuovo, anche sull'S&P, chi compra valore può trovare delle cose molto interessanti, ma deve fare, deve andare in onda una rotazione settoriale importante. Ecco, dopo tanta sovraperformance, probabilmente questo è un momento in cui dobbiamo aspettarci, che almeno per un po' potrebbe succedere che sia l'S&P eventualmente a sovraperformare il Nasdaq nel bene e nel mare. Quindi, se si sale, magari può fare meglio. Se si scende, potrebbe essere meno penalizzato. Insomma, un momento in cui però gli investitori, a quanto ho capito, devono osservare bene prima di azzardare qualsiasi movimento, no? Quindi anche perché diventerà sempre più presente, incombente sul mercato, come dire, l'esito elettorale. E l'esito elettorale passerà per forza attraverso gli inevitabili confronti, diciamo così, dibattiti all'americana, uno contro uno, no? O poi ci sarà quello del lice e quello congiunto dei due contro gli altri due. Ora, effettivamente, quello che si può dire è che qui l'asticella promette di alzarsi rapidamente, perché ho sentito questa mattina Trump addirittura evidenziare che chissà Biden magari fa uso di droghe. Ecco, giusto per dare l'idea del livello a cui si porterà probabilmente il confronto one to one. E questo influenzerà per forza i mercati, per forza. Una battaglia all'ultimo colpo, questo a dimostrazione che probabilmente Trump appunto non aveva rinunciato, no? Ti ricordi che abbiamo valutato anche questa possibilità quando effettivamente nelle scorse settimane era un po' più fuori forma. Mettiamola così per tutte le tematiche che ruotavano intorno al coronavirus. Allora, Davide... Ti vendo questo aspetto. Probabilmente e ovviamente loro hanno chi, come dire, dà consigli con possibilità di, come dire, avere a disposizione strumenti molto più potenti e corpuosi di quelli di cui disponiamo noi. Ma faccio un esempio che è chiaro per tutti. Se tu vai ad assistere a un evento pubblico, per esempio una partita allo stadio o una prima teatrale, dove il numero di posti è molto limitato, tu ti devi assolutamente preoccupare con tempo, con grandissimo anticipo di riservare il tuo posto. Penso che sia oramai comprensibile a tutti. Ma se l'evento è virtuale e quindi non c'è un limite alla capienza virtuale, anche il last minute funziona benissimo. Ecco, quello che sta succedendo qui è un po' la stessa cosa. Se tutto quello che rappresenta il conquistare consensi a livello elettorale deve avvenire frequentando il più possibile le persone fisicamente, allora la campagna elettorale deve partire da molto lontano. Ma se tu le persone le vuoi raggiungere prevalentemente virtualmente, conta molto di più il last minute, l'ultimo momento. Quindi vedrai che la campagna si accenderà poco prima. Esattamente così per una volta. Prenotavi il cinema con mesi di anticipo per vedere la prima e oggi invece su, diciamo, i canali appositi puoi andare lì e fare un clic anche all'ultimo secondo. Questa è una differenza che va considerata perché è un cambio radicale nell'approccio. Assolutamente. Beh, mi viene in mente la situazione italiana che non necessariamente è uguale a quella americana, però quante volte diciamo che quando ci sono le elezioni in casa nostra molti decidono all'ultimo momento e quindi chiaramente decidendo all'ultimo hanno impresse le ultime cose fatte in campagna elettorale, non certo quelle di due mesi prima. Quindi sicuramente è una strategia politica già vista che spesso funziona, Davide. Allora, l'altro tema che volevo lasciare, tra virgolette, per ultimo insieme a questo, c'è quello di Trump e delle presidenziali, è la Brexit che voglio dire si avvicina sempre di più alla sua fase finale, un po' come la campagna elettorale americana, è però insomma ancora appare nell'incertezza più totale di conseguenza, quindi tutto quello che potrebbe avvenire sul mercato a partire dal fronte valutario e dalla sterlina. Sì, se vogliamo dire il barometro di come è vista ad oggi da parte degli investitori la Brexit, lo troviamo tutto sulla sterlina. Cioè, oggi si va per ora verso più probabilmente una Brexit no deal che una Brexit con un deal reale con l'Unione Europea, perché? Perché i tempi, comunque c'è una deadline di fine anno, i tempi sono molto stretti e finora complice la crisi creata in generale dal Covid anche nelle comunicazioni, si è fatto poco o nulla, si è dovuto pensare ad altro e non c'è stato molto tempo da dedicare a questo. La sterlina è un barometro, cioè noi vediamo che la sterlina oggi è più debole da qualche settimana a questa parte, sia rispetto all'euro, sia rispetto al dollaro e questo un significato lo deve avere. Una sterlina che si indebolisce è sinonimo di mercati finanziari che in questo momento vedono, tra virgolette, il piccolo Regno Unito rispetto alla grande Europa, forse come uscire più penalizzato. Poi bisognerà capire se la sterlina più debole aiuterà l'economia britannica a riprendersi più velocemente rispetto alle altre europee oppure no e questo ce lo dirà il tempo. Certamente, beh per concludere i soliti consigli per gli acquisti come li definisco io spesso. Ma guarda, secondo me ci sono due caratteristiche, cioè come ti ho detto prima quello che il Nasdaq ci sta dicendo è che il Nasdaq ha perso di momentum e quindi anche gli investitori che inseguono il trend, quelli che cavalcano il trend, quelli di momentum in questo momento sono appiedati perché il trend non ce l'hanno più. Quelli che comprano valore vedono il mercato ancora troppo lontano dai livelli ai quali vorrebbero fare degli acquisti più ponderati. Quindi il mercato può continuare a salire ma per poterlo fare secondo me deve trovare una rotazione settoriale verso altri comparti e allora come ti dicevo perché il mercato possa continuare a salire e se lo continuerà a fare la rotazione sarà sui titoli value rispetto ai titoli grow. Quindi io vi aspetto che per esempio le banche o l'industria o altri settori anche la stessa energia pian piano che la situazione se succederà si andrà un po' ricomponendo potrebbero beneficiarne. Viceversa se si dovesse decidere che la borsa sia troppo allontanata dall'economia reale e i mercati dovessero recepire questo e quindi cercare un adeguamento allora siamo ancora lontani da livelli in cui questo smetterebbe di essere un leitmotiv e quindi i mercati potrebbero tornare indietro e se tornano indietro comunque il tecnologico a margini di discesa più ampi del resto. Quindi a te la prudenza insomma. Davide Biocchi, esatto, Davide Biocchi stavo proprio dicendo quello, le parole chiave alla fine tornano sempre però insomma è chiaro che è così insomma prudenza, cautela, paracadute, prodicelle, insomma chi più ne ha più ne mette, anzi se i nostri ascoltatori hanno altri suggerimenti, altri sinonimi ben vengano perché più se ne usano e più si ha a mente come muoversi, nei mercati, è quello l'obiettivo. E noi guarda ti farò una battuta rispetto anche a quello che abbiamo detto prima delle presidenziali di Trump, lasciamo sempre questo ultimo consiglio nella parte finale dell'intervista così rimane ancora più impresso, un po' come le battute finali della campagna elettorale. Mettiamola così, va bene. A parte gli scherzi grazie Davide Biocchi ci risentiamo la prossima settimana, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Davide a te l'ultimo saluto. grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e grazie a te Emanuela per essere stata qui con me oggi. grazie a presto. grazie a tutti.